subito dopo aver postato quel video sulla mia pagina facebook nei giorni scorsi di presentazione del tema di questa prima parte di discutiamo nel con su buoni fruttiferi postali problematiche di riscossione sono stati tanti gli amici che si sono incuriositi di questo argomento e verso i quali rivolgeremo la nostra attenzione in questa prima area di riflessione tematica ed argomendativa solito luogari hotel già hotel executive valrente sala b ospiti due professioniste della materia come l'avvocato raffaella chiappetta e l'avvocato emma iocca dello studio legale chiappetta iocca io direi subito di entrare nel merito della questione iniziando ad interloquire con l'avvocato chiappetta ecco come mai negli ultimi anni buoni fruttiferi postali sono alla ribalta sui giornali sul web in dante trasmissioni televisive non solo c'è una questione economica ma anche di natura sociale o sbaglio è vero purtroppo è un periodo non buono per i risparmiatori che incontrano diversi problemi nella riscazione dei buoni fruttiferi postali buoni fruttiferi che non dimentichiamo sono tra le forme tra le più consistenti forme di risparmio per i piccoli medi imprenditori risparmiatori italiani problematiche di diversa natura di relative diverse fatti specie vanno dalla variazione degli interessi che ultimamente hanno colpito i buoni alla prescrizione dei buoni postali così come la mancata duplicazione da parte dei post italiani dei buoni fruttiferi postali e il problema che poi è il primo che è arrivato sulle nostre scrivanie di cui ci siamo occupati ci occupiamo da diversi anni da lontano 2009 riguarda quei buoni fruttiferi postali cointestati a più persone dotati di clausola di pari facoltà di rimborso e il problema si pone nel momento in cui uno dei contestatari viene a mancare con il venir meno del contestatario di uno dei contestatari sorge il problema dei buoni fruttiferi e questa è diciamo la la il nostro cavallo di battaglia se lo vogliamo così definire ecco cosa significa mancata riscossione proprio dei buoni contestati con un soggetto defunto ok allora facciamo una precisuzione sul punto e facciamo un passo indietro noi intanto si stiamo parlando di quei buoni fruttiferi postali che sono dotati della clausola di pari facoltà di rimborso che cosa significa clausola di pari facoltà di rimborso è una clausola che è apposta sul fronte del buono sul fronte del buono con corrisponde all'acronimo cpfr cpr che consente al cointestata e contestatari viventi di poter in qualsiasi momento poter riscuotere interamente o l'uno l'altro possono essere anche testati a più a più persone buoni in qualsiasi momento possono riscuotere l'intero il problema si pone nei momenti in cui decede uno dei contestatari dei buoni quindi presentandosi all'ufficio postale il soggetto magari l'operatore si rende conto dalla data di nascita che viene impressa che è impressa su ciascun buono che magari è là uno dei contestatari con l'età ad esempio 1907 la scatta scatta non solo la presunzione di morte ma nel momento in cui l'operatore si rende conto che effettivamente il contestatario è deceduto blocca la riscossione ecco il problema blocca la riscossione e quindi poste per poter riscuotere il buono richiede una documentazione o comunque fa delle richieste che a nostro avviso allo Stato ci fermiamo a quello che diciamo noi e quello che hanno detto i giudici e che sostengono i giudici nelle cause che noi abbiamo avuto modo di patrocinare richiede una serie di documentazioni prima fra tutti la dichiarazione di successione che per intenderci è quella dichiarazione che si presenta alla morte di ciascuno all'agenzia delle entrate e quindi questa pretesa di questa documentazione comporta una sorta di illegittima richiesta che viene frapposta da poste italiane altra problematica altra problematica altra richiesta assurda a nostro dire e a nostro come spiegheremo quella un'altra richiesta è quella che il buono può essere liquidato solo con la quetanza congiunta e simultanea di tutti gli eredi del contestatario quindi da qui gli ostacoli che vengono posti la difficoltà da parte di questi dispermiatori del poter riscuotere quelle che sono somme di loro spettanza bene questo dal punto di vista pratico io direi di far intervenire per quanto riguarda la parte giuridica l'avvocato Iocca sempre su questo aspetto sicuramente magari chi non è addentro la materia potrà reputare una cosa giusta la dichiarazione la richiesta di dichiarazione di successione la firma di quietanza per il pagamento di tutti gli eredi perché magari potrebbe pensare ma come è chiaro un buono cointestato a più soggetti ne muore uno il cointestatario superstite va a riscuotere a pretendere la riscossione devono essere avvisati tutti gli altri eredi signori no non è così e non è così perché intanto poste nel momento in cui pretende la presentazione della dichiarazione di successione sta dando per scontato che i buoni fruttiferi appartengano soltanto al soggetto difunto perché logicamente che cos'è la dichiarazione di successione è quel documento che serve a rendere noto allo Stato all'Agenzia delle Entrate qual è il patrimonio ereditato dal defunto e il patrimonio del defunto ereditato dagli eredi su cui poi chiaramente gli eredi sono chiamati a pagare le imposte ma questa dichiarazione si ripete totalmente illegittima perché non trova fonte in nessuna disposizione di legge sappiamo che i buoni fruttiferi postali sono titoli garantiti dallo Stato che cosa significa? significa in pratica che i buoni fruttiferi non devono essere inseriti non concorrono a formare l'attivo ereditario quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione del defunto che senso ha chiedere un documento nel quale non obbligatoriamente ovviamente gli eredi del defunto devono inserire i buoni è totalmente inutile se non per creare degli ostacoli qual è il ragionamento che fa Poste? Poste dice siccome l'articolo 48 di un decreto legislativo il 346 del 90 mi impone sempre a suo dire mi impone la pretesa di richiedere di vedere la dichiarazione di successione perché io non posso trasferire non posso eseguire pagamenti di titoli per trasferimenti a causa di morte io la devo pretendere dai risparmiatori ma non è vero non è assolutamente così infatti ci sono delle risoluzioni ministeriali che hanno esattamente chiarito hanno interpretato queste disposizioni questo decreto legislativo chiarendo apposte che proprio per quei beni che non rientrano nell'attivo patrimoniale non deve compiere alcun tipo di accertamento del resto la dichiarazione di successione che cos'è? è un documento che ha natura squisitamente fiscale tributaria e non potrebbe mai diciamo impedire o limitare il diritto soggettivo del creditore del risparmiatore a riscuotere i buoni senza considerare come dicevo prima poste da per scontato che i buoni sebbene siano cointestati a più soggetti e sebbene ci sia posta la clausola di pari facoltà di rimborso siano solo del defunto del contitolare defunto ma non è così perché perché nel nostro diritto positivo quando dei buoni sono cointestati a più soggetti la legge presume che siano di proprietà di proprietà di tutti questi soggetti e che quindi vadano ad integrare una forma di comunione ordinaria in base alla quale ciascun concreditore solidale ha diritto di chiedere l'intero adempimento dei buoni così come poste all'obbligo di effettuare il pagamento e di liberarsi e di liberarsi ma adesso la mia collega vi parlerà di quali sono gli aspetti pratici per cui in effetti questa dichiarazione di successione si capisce che è una pretesa vessatoria che in alcuni casi in tanti casi non può essere rispettata non può essere eseguita come già precedentemente detto dalla collega Iocca non sempre gli eredi del defunto sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione questo quando si verifica quando ad esempio l'asse ereditario la massa ereditaria è inferiore a 25.000 euro allora non si è tenuti a presentare la dichiarazione di successione quindi non essendo tenuti alla presentazione di questo documento ovviamente si esige una documentazione che non si è presentata non si deve presentare questo è il primo esempio ma in ogni caso i buoni fruttiferi non devono essere indicati nell'attivo ereditario quindi non vanno inseriti nella dichiarazione di successione inoltre c'è un altro esempio c'è un altro esempio cioè quando i buoni fruttiferi postali sono intestati a soggetti che non sono perché non è detto che i buoni fruttiferi postali debbano essere intestati a soggetti che necessariamente siano legati da un legame di parentela possono essere intestati ad amici a expidanzati potremmo avere io e lo collega un buono cointestato ecco nel caso del decesso di uno o dell'altro l'altra non avrebbe alcuna legittimazione a presentare la dichiarazione di successione quindi si arriva ad avere una richiesta assurda oltre che aberrante e che quindi complica la discussione e la chiusura di quella di cui parlavo prima cioè la chiusura della pratica di successione perché mancherebbe in questo caso la dichiarazione di successione ecco avvocato Chiappetta proprio poc'anzi lei ha parlato di illegittima pretesa di poste di far firmare la guettanza del rimborso dei buoni a tutti gli eredi qua c'è un po' di confusione non so se vogliamo fare magari chiarezza anche logicamente a beneficio soprattutto di coloro che in questo momento ci stanno seguendo da casa più che illegittimo non dovrebbe essere effettivamente una garanzia per gli eredi che dovendosi presentare obbligatoriamente riscuotono la parte di proprietà del defunto quindi c'è una questione pratica che va meglio specificata poi l'avvocato Yock passerà a quella giuridica giusto nell'alternanza argomentativa delle risposte le faccio altri esempi potrebbe essere il caso di un erede reperibile in questo caso quella che è la pretesa della firma congiunta e simultanea pretesa da poste non si potrebbe verificare perché l'erede appunto è reperibile prendiamo il caso in cui per effettuare la discussione abbiamo detto è necessaria la presenza degli eredi del cointestatario defunto che devono essere si dovrebbero trovare all'ufficio postale tutti quanti insieme nello stesso momento e liberare questi buoni futiferi postali ok poniamo il caso che gli eredi uno si trovi in Australia l'altro negli Stati Uniti i costi sia di viaggio sia di procura sarebbero talmente alti che comporterebbero spese tali e tante procura rilasciata dalla rispettiva autorità straniera per poter recarsi o mandare procura liberare quindi il buono ma pensiamo anche al caso in cui ad esempio l'erede stesso comunque non abbia alcun interesse perché non parteciperà alla divisione di questo buono quindi anche in questo caso è un ostacolo terribile che si verrebbe a creare o ci sono anche dei casi aberranti come poniamo il caso che il nonno alla nascita del primo nipote intesti un buono al piccolo nipote a distanza di 10 anni lo intesti al secondo nipote allora siccome i buoni possono essere riscossi in qualsiasi momento però generalmente il raggiungimento della massima fruttuosità che equivale a una scadenza trentennale poniamo quindi il caso che il primo nipote riesce vista l'età del nonno a riscuoterli col nonno vivente nel frattempo il nonno muore quindi non morto il nonno il secondo nipote si troverebbe praticamente a dover dividere la parte del buono con tutti gli altri eredi si verificherebbe una situazione di iniquità tale lì dove comunque come spiegheremo più innanzi la norma non prevede magari lo analizzerà dal punto di vista giuridico la collega Iocca per far appunto emergere questa situazione di disparità di iniquità forse abbiamo dato per scontato qualcosa che scontato non è cioè noi stiamo parlando di buoni fruttiferi postali cointestati a più soggetti di proprietà di più quindi soggetti almeno presuntivamente di proprietà di tutti i soggetti intestati quindi capite bene che nel momento in cui decede muore uno dei cointestatari e poste mi chiede la quietanza di tutti gli altri di tutti gli eredi del cointestatario difunto limita il diritto del del cointestatario superstite che in quel momento magari con l'originale del buono fruttifero sta chiedendo il rimborso perché prima Raffaella diceva che i buoni sono rappresentano in effetti la forma di risparmio più diffusa tra gli italiani e perché perché in effetti essendo di piccolo taglio si potevano essere acquistati anche di piccolo taglio quindi era facile che il nonno i nonni al nipote anziché regalare 100-200 mila lire liquide magari alla comunione regalasse un buono fruttifero nel momento in cui andava in poste all'ufficio postale a sottoscrivere il buono per il nipote non è che potesse direttamente intestarlo al nipote poste chiedeva che non era presente magari era minore poste garantiva chiedeva intanto la cointestazione e garantiva che la posizione della clausola di pari facoltà non avrebbe creato alcun problema di lì a 30 anni 30 anni era detto per inciso la scadenza massima e naturale dei buoni fruttiferi che però potevano essere anche riscossi prima quindi dicevo poste garantiva che non avrebbero avuto alcun problema cosa che invece poi abbiamo visto non verificarsi anche perché quello che noi vi stiamo raccontando ha origine e trova fonte nelle migliaia di email che abbiamo ricevuto dai risparmiatori in seguito vabbè alla pubblicazione di alcuni video di alcuni articoli nelle varie riviste giuridiche e quindi anche a livello statistico raccontiamo e possiamo testimoniare quello che effettivamente è successo negli uffici postali ma qual è fondamentalmente il discorso che fa poste da un punto di vista strettamente giuridico poste dice siccome i buoni sono cointestati nel momento in cui uno dei soggetti muore viene a mancare cioè viene a perdere di efficacia la clausola di pari facoltà di rimborso che è quella che garantisce la possibilità di riscuotere disgiuntamente indipendentemente dal permesso degli altri cointestatari e sempre secondo poste questo assunto troverebbe conforto nell'articolo 187 del DPR 156 del 73 che in pratica è il codice postale non è vero infatti solo lo studio e l'interpretazione approfondita di questa legge e di tutte le leggi che sono seguite dimostra che l'articolo 187 che poi prevede il rimborso dei buoni dei libretti postali non può essere applicato in questo caso al rimborso dei buoni fruttiferi si effettivamente dice che anche nel caso in cui i libretti siano cointestati con la clausola di pari facoltà di rimborso poste debba chiedere la firma congiunta attenzione non degli eredi ma degli aventi diritto che sono soggetti tutt'altro diciamo completamente diversi dagli eredi gli aventi diritto sono per esempio nel caso in cui i buoni siano cointestati a due soggetti l'avente diritto è l'altro contitolare se sono come dire buoni cointestati a più soggetti mettiamo tre gli aventi diritto sono gli altri cointestatari quindi dicevo è vero che la legge dà la possibilità di applicare la disciplina dei libretti postali anche ai buoni fruttiferi postali ma non è scontata questa estensione questa applicabilità bisogna sempre discernere caso per caso e chiaramente nell'ipotesi dei buoni fruttiferi la clausola di pari facoltà non può venire a mancare e l'articolo 187 non può essere applicato ovviamente questo non lo diciamo soltanto noi poste in fondo fa una forzatura perché sostiene che questa clausola di pari facoltà di rimborso sia in fondo un mandato reciproco che si sono concessi i contitolari e che in quanto tale viene meno appunto con la morte dell'uno dell'altro però già la Cassazione nel 2002 ha specificato che non si tratta la clausola di pari facoltà di rimborso non è un mandato ricordiamoci anche perché in questo caso significherebbe dare ancora una volta per scontato che i buoni sono esclusivamente di proprietà dell'uno dell'altro e invece abbiamo detto prima che la cointestazione di per sé fa capire che bisogna dare per scontato invece che siano di comproprietà ok quindi che siano di più persone per cui ritorniamo all'ipotesi della comunione ordinaria per cui insomma non c'è un'ipotesi di come dire di mandato reciproco cose sempre attestate non solo dalla Cassazione con una sentenza del 2002 ma anche da diverse sentenze di tribunali dove appunto noi abbiamo avuto diciamo come dire sono state accolte le nostre tesi difensive che vi stiamo raccontando in sintesi quindi vorrei che si capisse bene perché in effetti nella discussione a volte noi diamo noi avvocati impegnati diamo per scontato cose che magari per un risparmiatore o per chi ci ascolta non possono essere scontate attenzione ripetiamo stiamo parlando di buoni fruttiferi che sono di proprietà di più soggetti è vero anche che la Cassazione nel 2007 ha specificato che siccome i buoni vengono diciamo consegnati in un unico originale quindi è chiaro che se io se io e la mia collega oppure io nonna io mamma in testo con mio figlio con mio zia con mio nipote i buoni e concedo al mio nipote l'originale del buono sto manifestando espressamente che quel buono è di proprio voglio che sia di proprietà di mio nipote tra l'altro la clausola di pari facoltà di rimborso non è che è una condizione che pone poste è una scelta è una scelta facoltativa che compie che compiono i sottoscrittori dei buoni nel momento in cui vanno ad acquistare questi buoni quindi già l'idea che due soggetti scelgano di concedersi reciprocamente questa possibilità di riscuotere senza il permesso dell'altro i buoni deve significare qualcosa anche perché sempre la Cassazione questa volta a sezioni unite nel 2007 ha precisato e chiarito che i buoni fruttiferi hanno natura contrattuale si applicano ai buoni fruttiferi le norme di diritto privato quindi è chiaro che il vincolo tra il sottoscrittore e poste italiane si debba formare sui dati risultanti dai buoni se sul buono Dio Santo è stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso magari il buono è stato sottoscritto dallo zio settantenne che dà per scontato che di lì a 30 anni cioè nel momento in cui viene a scadere il buono e quindi diventa effettiva la pretesa di rimborso non sarà presente perché dovrebbe avere 100 anni è chiaro che poste non può disattendere non può perché se no modificherebbe unilateralmente le condizioni del contratto e ciò non è assolutamente immaginabile pensabile chiedo scusa bene mi pare che poste quando uno dei contestatari poi dei buoni muore blocca il rimborso quindi non liquida nemmeno la quota del contestatario ha capito benissimo purtroppo poste non blocca soltanto il buono quindi l'intera somma portata dal buono blocca anche quella quota a parte abbiamo detto che è contestato stiamo parlando di buoni contestati quindi contestato due persone 50% 50% ecco anche quel 50% viene bloccato è perché il motivo di poste o comunque poste si arrampica sostendo che per poter essere rimborsato nella sua quota parte o comunque per poter ottenere lo scorporo del buono il buono stesso debba raggiungere la massima fruttuosità quindi soltanto al raggiungimento dei 30 anni il contestatario potrebbe riscuotere il suo 50% anche questa tesi fa a nostro sommesso avviso acqua da tutte le parti secondo poste questa sorta di condizione che appone sarebbe troverebbe diciamo natura nella tutela dei degli eredi perché in questo modo potendo scorpare la somma soltanto al raggiungimento della massima fruttuosità del buono in questo modo gli altri eredi del defunto cointestatario verrebbero garantiti secondo noi non solo non esiste una norma ma non secondo noi anche secondo tutti i giudici d'Italia che fino a questo momento ci hanno dato ragione non si trova e non si rinviene questa norma che effettivamente consente apposta di poter a questo punto permettetemi tra virgolette ma di poter abusare di questo potere perché per poter pretendere una cosa del genere deve comunque sussistere effettivamente un divieto una disposizione di legge che effettivamente limiti questo diritto da parte del cointestatario superstite la collega vuole aggiungere un'altra mia curiosità che penso poi rappresenti un altro elemento di integrazione alla discussione idealmente magari da quelle che in questo momento ci stanno seguendo da casa sulla variazione degli interessi ne parli la variazione degli interessi in effetti è un'altra di quelle problematiche che sta affliggendo ma veramente centinaia e centinaia di migliaia di risparmiatori perché che cosa è successo praticamente dunque noi sappiamo che i buoni fruttiferi vengono quando vengono sottoscritti è perché diciamo c'è la promessa che maturino interessi con il con il con il trascorrere del tempo quindi quando viene sottoscritto un buono sul retro almeno noi parliamo ovviamente soprattutto di buoni sottoscritti negli anni 70 80 fino agli anni 90 e tutti gli anni 90 quindi sul buono viene indicata la tabella riportante i saggi di interesse che ne so per esempio si investono 500.000 lire in buoni fruttiferi dopo il quarto anno i saggi di interesse saranno pari al 4% dal sesto anno in poi dell'8% e via discorrendo fino ai 30 anni ora cosa è successo è successo che evidentemente Poste ha promesso diciamo buoni saggi di interesse veramente alti perché i buoni fruttiferi sfido a trovare prodotti di investimento prodotti di risparmio con interessi così alti forse anche oggi rappresentano effettivamente uno dei prodotti migliori da questo punto di vista però evidentemente siccome aveva non facciamo pubblicità per carità aveva promesso saggi molto alti a un certo punto si è resa conto che voi lei dice per l'andamento dei mercati finanziari non poteva più reggere rimborsi veramente esosi magari gente che 30 anni prima investiva 500 mila magari 500 mila lire che dopo 30 anni riscuoteva 16 milioni ecco questa è la proporzione 16 milioni anche di più e allora un decreto ministeriale dell'86 nell'istituire la nuova serie di buoni la serie Q prevedendo già dei saggi di interesse inferiori rispetto a quelli che si erano sempre avuti nelle serie precedenti nelle serie di emissioni dei buoni precedenti ha non solo abbassato come dicevo i saggi di interesse ma ha stabilito che questi nuovi ed inferiori tassi venissero estesi anche alle serie dei buoni precedenti per cui che cosa si è verificato che il sottoscrittore di buoni l'acquirente di buono fruttifero di un buono fruttifero dell'ottanta sicuro di riscuotere dopo allo scadere dei 30 anni una cifra 15 mila euro quindi si è visto al momento dell'effettivo rimborso dell'effettiva riscossione si è visto dimezzare anche del 50% quanto inizialmente pattuito è chiaro che ovviamente sono derivate in tutta Italia una serie di cause per il parziale pagamento di quanto dovuto onestamente poste in questa fattispecie non ha tutti i torti non ha tutti i torti nel senso che purtroppo questo decreto ministeriale dell'86 trova effettivamente fonte in una disposizione legislativa cioè nell'articolo 173 di quel famoso codice postale in cui appunto si dice che la variazione degli interessi può essere stesa ad una o più delle serie precedenti ed infatti non è un caso che l'orientamento che si è andato consolidando in questi anni è tutto a favore di posti italiani cioè la maggior parte la stragrande maggioranza dei giudici ha dato ragione apposte noi non abbiamo abbiamo diciamo ci siamo interessate di questa questione negli ultimi due o tre anni e quindi non abbiamo ancora avuto sentenze non ci siamo ancora arrivate però abbiamo effettivamente studiato tutte le sentenze che poi i vari avvocati di poste italiane nei vari tribunali d'Italia allegano insieme alle loro comparse di risposte dal nostro punto di vista al di là del fatto che riteniamo effettivamente non giusto che si possa pretendere che il risparmiatore abbia avuto la conoscenza conoscenza di questa diminuzione con la semplice pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto ministeriale in realtà poste doveva avrebbe dovuto mettere a disposizione dei vari risparmiatori le tabelle dei nuovi e più bassi saggi per consentire eventualmente al risparmiatore di esercitare il diritto di recesso di riscuotere il buono con i vecchi tassi prima di subire il cambio dei saggi e magari investire in buoni a termine con la triplicazione del capitale in undici anni sei anni eccetera eccetera che magari avrebbe sicuramente comportato un incasso maggiore e quindi dicevo avrebbe dovuto mettere a disposizione anche queste nuove tabelle proprio per portare a conoscenza della variazione e non sempre non sempre poste italiane riesce a dimostrare che effettivamente queste tabelle siano state messe a disposizione e che quindi sia stato informato il risparmiatore infatti le pochissime sentenze che danno ragione al risparmiatore gliela danno appunto su questi presupposti dicevo noi abbiamo analizzato tutte queste sentenze e però abbiamo in fondo rilevato ma lo diciamo in maniera sottovoce perché potremmo sbagliarci e non siamo mai arrivati a sentenza quindi ancora a riguardo la nostra tesi è una mera opinione niente di più ci siamo accorti che in tutte queste sentenze i magistrati e gli avvocati dei risparmiatori danno per scontato un elemento che non dovrebbe essere scontato non possiamo logicamente dire niente non vogliamo anticipare diciamo quelle che sono le nostre strategie difensive ma l'invito che rivolgiamo ai legali di questi risparmiatori è comunque quello di non seguire per esempio non possono impostare le difese sostenendo che ai buoni fruttiferi si applichi la disciplina bancaria e quindi che poste fosse all'epoca obbligata a comunicare magari nel domicilio del risparmiatore la variazione perché ricordiamo che le norme sulla trasparenza bancaria sono entrate in vigore negli anni 90 mi pare con il testo unico bancario o anche forse successivamente quindi è chiaro che buoni fruttiferi sottoscritti negli anni 80 non si applicava questa disciplina quindi non erano tenuti ma consigliamo di valutare insomma di affrontare di andare a studiare la normativa anche il codice postale nel contesto e potrebbero scoprire cose diverse aspetti giuridici diversi però aspettiamo ovviamente la decisione dei giudici prima di di poter esprimere effettivamente la nostra difesa al riguardo noi siamo abbastanza guerriere però nello stesso tempo cerchiamo sempre di ottenere in via transattiva cercando di arrivare ad una composizione della lite abbiamo provato in diversi modi anche perché tornando al discorso dei buoni fruttiferi contestati al contestatario defunto ormai abbiamo tante sentenze e queste sentenze che hanno fermato e ribadito alcuni principi ciò nonostante posta e ferma nella fase stragiudiziale non fosse per nulla del rimborso ovviamente proponiamo le istanze di mediazione per mediare non si presenta le istanze di mediazione quindi purtroppo siamo costretti a dover citare posti italiane in causa per poter ottenere con tanto poi di condanna alle spese in tutti i casi e purtroppo dovendo costringere comunque attendere i tempi della giustizia ma poi ottenendo ragione giudiziale è chiaro che dobbiamo dare dei consigli di pubblica utilità come di prassi nel corso delle mie trasmissioni quando si trattano temi di natura sociale ed economica così importanti quando toccano le tasche di tanti risparmiatori italiani per cui coloro che magari non hanno contezza con l'arcipelago variegato giurisprudenziale è chiaro che dovremmo poi entrare come avete abilmente fatto sempre di più anche in tutta una serie di altre questioni allora in effetti sono sono tanti i risparmiatori che ci contattano via mail o telefonicamente e ci chiedono ma nel caso per esempio appunto della variazione che riguarda forse più risparmiatori che cosa dobbiamo possiamo andare possiamo recarci in poste riscuotere i nostri buoni e poi eventualmente fare causa successivamente sì la risposta è sì potete tranquillamente andare a riscuotere i buoni facendo attenzione che poste vi consegni la ricevuta di riscossione che è una semplice ricevuta un foglietto in cui vengono indicati i buoni i dati identificativi dei buoni che voi consegnate in originale quindi il numero della serie la serie chiedo scusa il numero l'importo del buono fruttifero la data di emissione e quindi la data di riscossione sappiate che quella ricevuta è una mera ricevuta non è una quietanza liberatoria per cui non è che poste domani vi possa dire siccome tu hai riscosso il buono oggi non puoi pretendere niente ovviamente fate attenzione non si è mai verificato non si potrebbe verificare ma ad ogni buon fine noi lo diciamo non è che dovete andare a sottoscrivere che non avete più niente a pretendere anche perché nel momento in cui voi riscuotete il vostro buono ancora non siete sicuri che vi abbiano dato una cifra inferiore solo quando ritornate a casa e il vostro consulente vi ha fatto bene i calcoli allora scoprite avete quindi la certezza che poste vi abbia dato meno soldi a quel punto chiaramente potete decidere di fare causa io e Raffaella sconsigliamo sempre i decreti ingiuntivi perché tanto sono decreti ingiuntivi che comunque poi vengono opposti da poste italiane e quindi è meglio fare a limite dei procedimenti sommari 702 bis o dei processi di cognizione ordinaria in modo da poter ovviamente gli avvocati devono studiare molto bene perché in questo momento la giurisprudenza è tutta contraria quindi effettivamente c'è il rischio che vi possano condannare alle spese questo lo dobbiamo dire per cui quello che diciamo noi come avvocati è che se si tratta di piccole somme non lo so valutate bene l'interesse con questo non voglio assolutamente dire né tantomeno è possibile un'azione diversa cioè magari tanti mi dicono avvocato ma io devo necessariamente andare in giudizio magari i soldi mi servono perché avevo fatto affidamento su quei soldi volevo comprare una casa e magari ho firmato un compromesso purtroppo poste giustamente per la variazione dico giustamente non stragiudizialmente non non perde in giudizio vi aspettate che stragiudizialmente cioè bonariamente vi dia ragione non lo potrebbe fare sarebbe folle se in questo momento lo facesse invece per quanto riguarda i buoni fruttiferi cointestati a soggetti defunti là invece io personalmente consiglierei apposte quantomeno di liquidare la quota a parte dei soggetti comproprietari perché ormai sappiamo che diciamo l'assunto della massima fruttuosità che porta avanti anche nelle sedi giudiziarie non ha alcun appiglio giuridico ma trova fonte soltanto nelle disposizioni interne nelle circolari di servizio che ovviamente tutti sappiamo non essere atti normativi e quindi non avere alcuna valenza giuridica allora io la dico che effettivamente poste che comunque non si presenta in mediazione dovrebbe pensare di riscuotere cioè di rimborsare quantomeno la quota a parte senza aspettare diciamo il raggiungimento della massima fruttuosità però la cosa strana che abbiamo vi ripeto avendo ormai decine e decine di cause in vari tribunali d'Italia e avendo raccolto le testimonianze di migliaia 5, 6, 7 mila ormai non teniamo più i conti ma forse sono anche di più risparmiatori ci siamo accorti che poi fondamentalmente non sempre poste a un atteggiamento univoco cioè a noi è capitato che nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri clienti che poi sono i cointestatari superstiti non abbia rimborsato neanche parte la loro quota parte dei buoni a tanti altri invece a pochi altri in effetti è vero a pochi altri l'abbia fatto e non è una buona perché se l'impiegato postale non sa che il decesso il discorso che faceva la mia collega la famosa presunzione di morte quando siccome sui buoni c'è anche scritta non solo c'è scritto il nome ma anche la data di nascita è chiaro è facile magari in presenza di Mario Rossi nato nel 1930 scatta facile la domanda ma il signor Rossi il cointestatario Rossi è vivo è chiaro che il risparmiatore non dice sì è vivo se è morto non dichiara il falso e la postesca se scatta la risposta e la parte il blocco se magari l'impiegato distratto non si avvede diciamo distratto non si avvede della data risalente nel tempo del cointestatario non fa la domanda e quindi quel buono verrà riscosso però se ci pensiamo bene questo è anche un profilo di ingiustizia il fortunato non non incontra alcun problema invece il poveraccio il cointestatario che 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 magari capita chiede la riscossione del buono all'impiegato più attento subisce il blocco né tantomeno lo chiariamo subito il cointestatario dice beh che ne so Cosenza l'ufficio di Cosenza mi ha bloccato non mi ha rimborsato il buono provo a chiedere la riscossione a Milano perché c'è la legge in effetti la legge la disciplina dei buoni fruttiferi consente di chiedere la riscossione in un qualunque ufficio del territorio italiano logicamente se il risparmiatore va a chiedere la riscossione del buono in un ufficio che non è l'ufficio di emissione di quel buono l'ufficio interessato dovrà chiedere l'autorizzazione all'ufficio di emissione quindi Milano dovrà chiedere l'ufficio non è che lo rimborsino subito dovrà sempre chiedere l'autorizzazione nel momento in cui andrà a chiedere l'autorizzazione se nei terminali di poste è segnato il decesso del cointestatario superstite il buono non c'è possibilità ovviamente di riscuoterlo ma se ho ancora cinque minuti volevo anche dire che poste ultimamente abbiamo registrato dei casi e qua ci teniamo però a precisarlo per quanto abbiamo diciamo iniziato delle cause non sono ancora andate a sentenza quindi facciamo questa premessa per dire che non abbiamo ancora la certezza che si tratti di un atteggiamento non proprio una condotta non proprio legittima perché nessun giudice ci ha dato ragione ancora non siamo arrivati a sentenza tuttavia a naso ci sembrano cose insomma arrivare a sentenza giustamente significa che ancora la causa non è arrivata non è andata in decisione quindi il magistrato non ha detto se abbiamo torto oppure ragione beh nei casi in cui per esempio i buoni vengono sottratti noi i nostri clienti alcuni dei nostri clienti hanno subito per esempio dei furti in casa e tra le cose rubate sottratte rientravano anche dei buoni fruttiferi sempre parliamo di buoni cointestati a soggetti a più soggetti magari tal'uno di questi soggetti è anche defunto bene in questi casi la legge prevede la possibilità di chiedere la duplicazione dei buoni ebbene anche per questi casi gli uffici postali ed è tutto documentato chiedono che la semplice domanda di duplicazione sia sottoscritta non solo dal diritto dall'intestatario dal diritto dal diretto interessato ma anche da tutti gli eredi o da tutti i cointestatari il che è veramente allucinante noi abbiamo per esempio una signora che vive una cliente che vive in un paesino limitrofo del Cosentino ma buoni intestati ad una zia i cui parenti seppur in vita sono dislocati in varie regioni d'italia ma come come si fa a pensare che tutti questi eredi dovrebbero presentarsi a firmare una semplice richiesta di duplicato del buono il duplicato in questi casi secondo me sbaglia prima il professore Tursi Prato giustamente rilevava e diceva ma quando Poste Italiane chiede la dichiarazione di successione o la quietanza congiunta di tutti gli eredi effettivamente fa bene perché è una forma di protezione nei confronti degli altri degli eredi e degli altri cointestatari dei buoni no non è proprio scontata questa cosa perché ricordiamoci che gli eredi possono comunque presentare un'opposizione cioè se gli eredi o meglio se Poste riscuote rimborsa i buoni cointestata al soggetto defunto per il discorso che facevamo prima lei è libera non è che un domani gli eredi possano possono andare da poste e dire ma perché hai riscosso e leso i miei interessi e i miei diritti se effettivamente c'è stata una lesione dei loro diritti perché magari i buoni investiti erano soltanto del cointestatario defunto gli eredi possono o comunque l'altro cointestatario possono logicamente far causa direttamente a chi ha incassato i buoni quindi se è vero un modo per recuperarlo cioè non è che il cointestatario superstite va ad incassare il buono e la legge gli dice quei soldi sono tutti tuoi no se domani l'altro cointestatario pretenderà la propria parte potrà farlo però il rapporto è tra le parti e non tra cointestatari e poste poste non c'entra assolutamente nulla oltretutto gli eredi possono fare le opposizioni cioè possono notificare quando per esempio facciamo un esempio pratico muore una zia io voglio sapere se zia ha dei buoni o dei libretti postali accesi nei vari uffici postali io faccio una richiesta che si chiama ricerca di titoli pagando ovviamente i diritti e poste mi saprà dire quanti buoni se ci sono buoni quanti buoni se ci sono libretti a quel punto io se voglio impedire che magari i miei cugini o l'altro cointestatario senza il mio permesso riscuote i buoni notifico un'opposizione e dico attenzione a poste non rimborsare i buoni se non in presenza di tutti allora in quel caso chiaramente poste ha tutto il diritto di non rimborsare e di pretendere la quietanza così come se il buone è intestato ad un soggetto che è defunto ma ci mancherebbe altro che poste non facesse bene a chiedere la quietanza di tutti gli eredi e soprattutto la dichiarazione di successione da cui si evince quali sono gli eredi sebbene la dichiarazione di successione non valga diciamo non significhi accettazione dell'eredità questa è un'altra di quelle cose per la quale è troppo vasta siamo riusciti un attimo a toccare tutti i punti che comunque interessano gli risparmiatari scusami se ti tolgo la parola ma mi è venuta in mente un'altra cosa abbiamo notato per esempio allora quando ammettiamo il buono fruttifero che raggiunge la massima scadenza dei 30 anni cointestata soggetto defunto a quel punto poste se si è arrivata ai 30 anni in alcuni casi diciamo rimborsa la quota a parte al cointestatario superstito ebbene per legge dovrebbe essere obbligata a depositare la residua a parte su un libretto postale su dei conti intestati agli eredi in modo tale che nel momento in cui per il discorso che vi facevo prima si sveglia l'erede della zia che viene a sapere appunto che la zia purtroppo non c'è più è morta e chiede fa la ricerca dei titoli sa che su quel libretto quel dato libretto è intestato agli eredi di Maria Rossi e quindi può rivolgere la richiesta di rimborso quindi questo è per legge ci sono gli articoli per il 184 il 187 sempre del regolamento di esecuzione del codice abbiamo notato però ripeto nessun giudice per il momento ha condannato poste abbiamo notato che in quei casi anziché l'ufficio postale anziché depositare e versare i soldi su un libretto intestato agli eredi e versa la residua a parte su un conto corrente postale anonimo intestato appunto a poste allora ci chiediamo i nostri dubbi ma come fanno un domani gli eventuali eredi che fanno richiesta a rintracciare queste somme depositate su un conto di poste ripeto nessun giudice per il momento ha condannato poste che magari fa benissimo a depositare i buoni la residua a parte ad un conto anonimo intestato a poste italiane però apparentemente mi pare una cosa lo chiediamo apposta visto che è considerato che rimane questa che nessun giudice ancora sia espresso è considerato che comunque la la nostra domanda non trova riscontro ma ci sorprende lo chiediamo a poste italiane se mai il professore voresse intervenire la prossima volta in una nostra conversazione beh giriamo questa giusta e doverosa riflessione anche agli amici di poste italiane che seguono magari la mia trasmissione ringrazio le due avvocatesse che hanno partecipato a questa prima parte di discutiamo nel con Raffaella Chiappette del Mayoc con cui ci siamo soffermati a lungo su buoni fruttiferi postali sulle problematiche di riscossione degli stessi speriamo di avervi dato le giuste doperose notizie anche qui vale la massima medica secondo cui prevenire è meglio che curare spazio alla pubblicità spazio Grazie a tutti Le vigne de Caro, dalle colline di San Vincenzo la Costa e di San...